Buongiorno a tutti, sono Sergio Buttignoni, responsabile Corporate Marketing e Home Appliance Marketing per il mercato italiano e per il mercato greppo. Oggi parliamo della nuova lavatrice Sentum System. Sentum System è la punta di diamante della produzione LG, una macchina con una garanzia totale di 10 anni. Come facciamo a garantire una macchina 10 anni? Bisogna lavorare su quelli che sono il numero di cicli di lavaggio che si hanno in una vita della lavatrice. Tanti anni fa le macchine venivano sollecitate con uno o due lavaggi alla settimana, oggi le macchine vengono sollecitate 6-7 volte alla settimana e quindi vanno riprogettate da zero per seguire questi nuovi stili di vita. Vediamo come questo è possibile. Nelle lavatrici tradizionali c'è il cestello che è appeso agli ammortizzatori posizionati nella parte bassa. Nella lavatrice Sentum System invece, un sistema di ammortizzatori di derivazione automobilistica fa oscillare solamente il cesto, lasciando la vasca fissa. Delle sfere controrotanti vanno a bilanciare i capi che si distribuiscono durante la fase di centrifuga. C'è poi un sensore antivibrazione che gestisce la velocità di centrifuga stabilizzando la lavatrice. La macchina, quindi come potete vedere, è dotata di un sistema con anche una barriera antivibrazione che serve per isolare maggiormente i rumori che sono emessi dal motore in centrifuga. E qui rivediamo il sistema innovativo rispetto al sistema tradizionale. La lavatrice ha il motore garantito 20 anni. Con la pratica app sincronizzabile in wifi c'è la possibilità di inserire programmi personalizzati che non sono in dotazione della macchina al momento dell'acquisto. Possiamo lavorare inserendo i tipi di capi che vogliamo inserire, scegliendo dei programmi particolarmente performanti per quanto riguarda l'efficienza energetica. Possiamo lavorare sul tema della riduzione dei tempi di lavaggio, ma possiamo anche fare l'autodiagnosi della lavatrice per vedere se ci sono dei problemi di funzionamento e anche dare un'occhiata alle statistiche di lavaggio, dove praticamente ci si può collegare alla macchina e ricevere le informazioni sui programmi più utilizzati da quando la lavatrice è stata messa in funzione. Non abbiamo solamente lavorato sul motore che ha garantito 20 anni e sul sistema per ridurre le vibrazioni, ma abbiamo lavorato anche sulla scocca della lavatrice, scocca che è un materiale smaltato e abbiamo anche lavorato sulle cerniere della macchina, cerniera che è fatta per reggere un peso fino a 100 kg. Inoltre, all'interno, la scheda elettronica, oltre che essere siliconata, è incapsulata in una barriera di materiale plastico per poterla isolare maggiormente da quelle che sono le sollecitazioni legate all'umidità e all'acqua. La lavatrice ha 12 kg di capacità, è dotata di lavaggio a vapore, è dotata della tecnologia Turbo Wash per lavaggi perfetti in 49 minuti e è dotata anche di speciali programmi come lo speciale macchie dove c'è la possibilità addirittura di selezionare il tipo di macchia che hanno i capi che vengono inseriti all'interno per avere un lavaggio ottimale. La lavatrice Sentum System ha anche una grande performance per quanto riguarda l'efficienza energetica, infatti è in classe A3+, meno 60%, che equivale a un consumo annuo di 113 kW, pari a 0,50 kW circa per il ciclo di lavaggio completo. La macchina viene fornita, abbiamo detto, da 10 anni di garanzia totali ed è anche aperto un finanziamento a tasso zero in 25 mesi per tutti gli acquirenti dall'inizio della commercializzazione che è stata a maggio fino al 31-12-2016.